Viene! Ce l'ho, ragazzi! È me! Tranquillino, lo mollo! Lo sfianco! Mi prego, ditemi che rò lento! Va subito in città, Nello. Appena posso, ti raggiungo. Oppure forse... sarai tu a dover raggiungere me. Non, non, non! Ah! Oh no! No, no, no! Oh! Ah! 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 Okay, 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 amigo. Ah! Ah! Si è tanto male. Solta dentro! Ho un piano! Ah! Hot dog! Ah! 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 D'accordo, Anello! Io mi accosto di fianco a Robot! Tu ti arrampichi, raggiungi la sua memoria centrale e... Ehi, ragazzi! Eccomi! Robot! Ehi, raggiungi la sua memoria. D'archivare la sua memoria! Ehi! 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 Grazie a tutti.